Nella serata dell'8 gennaio non andrà in onda una nuova puntata in diretta del Per lasciare spazio ai fratelli Caputo Per rivedere Alfonso Signorini, Antonella Elia e Pupo bisognerà attendere l'11 gennaio, ma nella casa continuano a verificarsi episodi molto interessanti e decisamente inattesi Due viponi, che inizialmente non avevano proprio avuto un impatto positivo, si sono avvicinati moltissimo e anzi sono andati oltre, scatenando gli altri coinquilini I due hanno discusso tantissimo anche negli ultimi giorni e tutto ci si poteva aspettare fuorché un bacio Invece è avvenuto tutto questo, con Stefania Orlando che è rimasta senza parole Dopo i litigi, la scorsa notte hanno deciso di chiarire definitivamente Tra di loro non c'è stato solamente un accordo verbale, ma hanno voluto certificare questa ritrovata pace con un bel bacio Incredibile, ma vero! Questa edizione del reality show sta riservando sorprese dietro l'angolo ogni giorno Continua dopo la foto, stiamo parlando di E, che hanno finalmente messo da parte l'astio, coronando il loro rapporto con questa vicinanza clamorosa Davanti agli altri inquilini presenti nella stanza, i geffini si sono baciati generando stupore in tutti Una volta accaduto tutto questo, la Capriotti è apparsa molto sorridente Invece Mario è rimasto anche lui un po' scosso, ma positivamente Lei si è subito girata verso i compagni di avventura ed ha commentato quanto successo Continua dopo la foto, la Capriotti ha domandato, cosa volete? Volete la guerra? Forse è stato uno sbaglio innocente Ovviamente il bacio in questione è stato a stampo, senza la presenza di passione Però, nonostante ciò, moltissimi utenti si sono chiesti se il marito di lei possa essere rimasto infastidito da questo gesto Da parte del coniuge non c'è stata alcuna reazione ufficiale al momento, ma sicuramente nella prossima puntata Signorini tirerà in ballo anche questo tema diventato interessante Continua dopo la foto, nelle ultime ore ha avuto un nuovo battibecco con Carlotta dell'Isola La prima ha detto, la terza volta l'ho visto un po' eccessivo, un po' da coccodrillo Il riferimento è al fatto che la dell'Isola piangerebbe troppo E quest'ultima ha risposto, io non faccio latrice nella vita Non piango a comando Non l'ho deciso io di piangere Arriverà un chiarimento anche tra loro due 8 gennaio 2021 barra E quest'ultima è un po' eccessivo E quest'ultima è un po' eccessivo Qui c'è la rispostoaidina Grazie.